Se sei un sanitario, un medico, un infermiere, devi sapere che da oggi puoi allargare le tue frontiere professionali ed aprire un centro di formazione BLSD denominato SAIP American Art Association con noi. Il nostro International Training Center si occupa di accompagnarti per mano attraverso il percorso formativo che ti farà diventare un istruttore BLSD internazionale. La nostra esperienza ed il nostro supporto ti permetterà di accreditarti al 118 della tua regione e nazionale per renderti autonomo al rilascio dei certificati BLSD 118 come previsto dalla norma. Abbiamo già formato 400 tra medici e infermieri e avviato ben 30 centri di formazione in quasi ogni regione italiana. Scopri ora come poter avviare una nuova attività aumentando le tue potenzialità di sanitario insegnando a salvare una vita a colleghi, aziende, famiglie, studenti. Chiama ora per scoprire perché sceglierci.